24 febbraio 1990 muore a roma sandro pertini nato nel 1896 in provincia di savona medaglia al valor militare durante la prima guerra mondiale nel primo dopoguerra aderisce al partito socialista italiano e si distingue per la sua dura opposizione al fascismo durante gli ultimi anni della guerra partecipa attivamente alla resistenza e diviene uno dei membri più importanti del cln nell'italia repubblicana è senatore per la prima legislatura e deputato consecutivamente dal 1953 al 1976 l'8 luglio 1978 pertini diviene il settimo presidente della repubblica italiana di essere fedele alla repubblica e di osservare realmente la costituzione ma da oggi io ceserò di essere uomo di parte intendo essere solo il presidente della repubblica di tutti gli italiani viva la repubblica viva l'italia un presidente è forte carismatico spesso burbero probabilmente il più amato